Cominciamo dalla riete. Anche se domenica ci sono ugualmente delle questioni da sistemare, dovete affrontarle usando tanta pazienza e spirito costruttivo. Toro, oggi dovrebbe essere proprio una bella domenica trascorsa in famiglia, a fianco del vostro amore o con qualche speranza di fare incontri stimolanti per i single. Gemelli, domenica senza avrio. Nell'ultimo periodo siete stati troppo concentrati sul lavoro, avete bisogno di relax e riposo, quindi cercate attività rilassanti. Questa domenica potrebbe portare una svolta positiva nella vita sentimentale. Cancro, questa settimana si chiude in modo positivo per voi, anche le situazioni di stallo arriveranno ad uno sblocco. Immaginazione e sensibilità vi verranno in aiuto. Leone, oggi tralasciate ogni discussione in famiglia o con i figli su argomenti delicati e su problemi di denaro. Cercate di usare la mediazione per proporre le vostre idee. In amore sono favorite le storie nate da poco. Vergine, bellissima domenica per voi. Le emozioni e i sentimenti sono in pole position. Abbandonate per oggi il vostro atteggiamento logico e razionale e aprite le porte ai sentimenti e alle emozioni. Bilancia, questo fine settimana potrebbe portare alcune tensioni in amore. Se siete indecisi in merito ad una relazione fresca fresca oppure tra due relazioni, allora potrebbe essere arrivato il momento di dare un ultimatum. Scorpione, vi comportate da soggetti dominanti con le persone remissive ma non dovete esagerare e a volte siete troppo critici. Per chi lavora, anche oggi le cose non stanno andando molto bene dal punto di vista lavorativo. Sagittario, anche oggi le cose sembrano andare a rilento. Non riuscirete ad arrivare ad una conclusione anche se gli impegni quotidiani di questa giornata di festa non vi opprimono. Capricorno, oggi amore e sentimenti sono al top. Felicissimi quelli di voi che sono in coppia. Per i single fioccano le occasioni e le tentazioni. Siete in piena forma e desiderate stare al centro della scena. Acquario, domenica noiosa, la vita vi sembra monotona e vi sentite insoddisfatti. Volete trovare un interesse stimolante ma in realtà non sapete nemmeno voi cosa. Troppi gli impegni degli ultimi giorni. Pesci, gli astri vi portano una bella domenica. Ci sono iniziative stimolanti, armonia di coppia, serenità con gli amici. Se siete liberi sentimentalmente è proprio fra gli amici che potrebbe esserci il vostro amore. Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.